Bella a tutti, qui Triface che vi parla ed oggi voglio vedere con voi la patch 1.1.1 di Diablo 4 dell'8 agosto 2023. Prima cosa da notare sicuramente è che ci sono stati dei bug fix all'interno dei vari personaggi, quindi del Barbaro, Rogue, Druido, Sorcerer e Necromancer. Tendenzialmente avrebbero migliorato i personaggi in quanto c'erano dei bug all'interno di varie spell che li portavano a non fare danni o comunque a non applicare alcuni affissi delle loro abilità. Motivo per il quale mi sento di dire che secondo me, benché siano bug fix, non sono stati come le altre volte, ossia dei nerf, in quanto si diceva erano un bug e quindi sono stati nerfati, piuttosto sono stati dei miglioramenti. Uno dei miglioramenti che hanno apportato sicuramente è stato quello inerente al Barbaro e all'Incantatore, in quanto erano i due personaggi meno utilizzati. Dove all'inizio avevamo uno stregone che non faceva altro che cercare di ottenere danno da una parte e ridurne da un altro, adesso hanno cercato di ridurre questa cosa. Per quanto invece riguarda il Barbaro, hanno voluto ridurre il costo delle risorse, quindi in questo caso della sua furia, soprattutto agli inizi dei livelli, in quanto aveva comunque una crescita più lenta rispetto a tutti gli altri personaggi, motivo per il quale hanno deciso di ridurre questo costo per poter migliorare quindi la sua crescita soprattutto a inizio gioco. Una cosa importantissima invece è la densità dei mostri, in questo caso hanno voluto aumentare la vita dei mostri soprattutto più alti di livello, più alta è la loro vita, motivo per il quale soprattutto chi è agli inizi o chi è in mid game avrà più difficoltà a cercare di fare dungeon finali. Una cosa che mi sento di dover dire è che io ho già testato, cioè la capacità dei dungeon incubo e della marea infernale, cioè quanti mob ci stanno, a me sembra che ce ne siano di più, cioè letteralmente io adesso quando droppo, droppo un botto di roba perché ci stanno più elite e più mostri da qui droppare. Invece per quanto riguarda il gear, non solo la densità è importante ma anche il livello del mostro, quindi adesso avere un livello del mostro più alto equivale anche ad avere una certezza nel drop dei leggendari che assolutamente era quello che cercavamo per poter girare meglio i nostri personaggi ed anche la difficoltà stava proprio in quello, motivo per il quale adesso è più facile poter droppare pezzi ancestrali, leggendari e così via. Sono stati tolti certi affissi da alcuni sigilli, che vuol dire? Vuol dire che all'inizio noi avevamo la possibilità di avere l'affisso congelamento, brucia risorse e colpo alle spalle all'interno dei nostri sigilli, vuol dire che quei sigilli noi non li usavamo mai, motivo per il quale per rendere insomma il fatto dello spreco dell'inventario e quant'altro, anche perché comunque la gente li buttava e non li usava, quindi era proprio inutile come meccanismo del gioco, hanno voluto togliere questi affissi dai sigilli, quindi noi non avremo più dungeon dove i mostri ci riducono le risorse, i mostri ci hanno sempre congelamento o colpo alle spalle. Abbiamo finalmente un costo ridotto per quando dobbiamo rimborsare i nostri punti eccellenze e i nostri punti abilità, fino a un massimo del 40% a livello 100. Può sembrare non importante, ma questa cosa è davvero importante, cioè il fatto che il glifo, quello dove potevamo mettere la vulnerabilità sui mostri appena li tocchiamo, entro tot secondi, questo non si applicava sui mostri che avevano una barriera, quindi adesso questa cosa si applica perfettamente. Il motivo per il quale se vediamo i nostri danni aumentare può essere anche per questo motivo, per me questo forse è uno dei miglioramenti maggiori che c'è stato all'interno. Altra cosa molto importante, anzi le due cose fondamentali di questo aggiornamento che ci aspettavamo, uno erano il depotenziamento del barbiere per quanto riguarda il party, per cui il barbiere adesso non funzionerà più con i danni aggiuntivi del party, bensì solo del player che ce l'ha indosso. Ultimo, ma non meno importante, è proprio la farm dei cuori raconti, quella che avevo rilasciato come video qualche settimana fa. In questo caso, come vedete, sarà droppabile solo l'Icor, quindi vuol dire che non rilasceranno più né la chiave del Varshan, né tantomeno il cuore di Varshan, motivo per il quale la farm adesso non funzionerà più. Io con questo termino, come sempre, vi ringrazio dell'attenzione, mi raccomando se vi servono consigli o altro trovate tutti i link sotto in descrizione. Grazie a tutti e ciao!